Dice, ma te fai lo YouTube, scritto proprio YouTube, senza ma con la R finale, che organizzazione ci devi? Arrivi, accendi, pigli e vai, no? Eh, infatti, ho un calendario, manco frate indovino. Voi veloce, perché c'è un sacco di roba da dire. Prima di tutto iniziamo con le date, quello che succederà nel mondo della pallacanestro da qui alle prossime settimane, mesi. Eh, il mondo della pallacanestro sa. I playoff di LBA vanno da questo giovedì, 13 di maggio, fino massimo al 17 di giugno, qualora si arrivasse a gara 7 della finale scudetto. Nel frattempo, dal 28 al 30 di maggio, ci saranno anche le Final Four di Eurolega, con Milano protagonista. E quest'anno le seguiremo proprio in virtù del fatto che finalmente c'è anche un'italiana. Poi, invece, in NBA, il 16 di maggio finisce la stagione regolare, dal 18 al 21 ci saranno i play-in, e poi dopo, dal 22 di maggio, inizieranno i play-off, che finiranno al massimo il 22 di luglio, se si dovesse arrivare a gara 7 delle Finals. Detto questo, come ci organizziamo noi qui sui canali col palinsesto, con la programmazione? SETTIMANA DI SEI GIORNI A RIPETIZIONE CONTINUA SENZA PAUSE Questo è il nome che ho deciso di dare allo schema di organizzazione. SETTIMANA DI SEI GIORNI A RIPETIZIONE CONTINUA SENZA PAUSE Scritto tutto attaccato perché mi sembrava un nome particolarmente originale, soprattutto corto e veloce da ricordare, che potesse esprimere meglio il concetto. Ci organizzeremo in questo modo qui. Sei giorni. Il primo giorno del gruppo faremo la live, la diretta su Twitch di LBA, a tema LBA. Il giorno successivo, secondo giorno, prima la live, secondo giorno video. Prima di LBA, stavolta video di NBA. Il terzo giorno, quasi gaming. Il quarto giorno, live, se era fatta di LBA, stavolta si fa di NBA su Twitch. Il quinto giorno, video, perché il giorno prima se era fatta la live, la live se era fatta di NBA, quindi video di LBA su YouTube. Il sesto giorno, gaming su Twitch. E il settimo giorno, si ricomincia senza pause. Settimana di sei giorni a ripetizione continua senza pause. Si riparte dal primo, il secondo, il terzo, il quarto, fino al sesto e poi via a rota. Considerazioni sparse. 1. Niente viene lasciato indietro. Io inizialmente avevo pensato di mettere in pausa alcune serie, alcuni argomenti, alcune cose, però poi ci ho riflettuto tanto e alla fine ho deciso che, siccome in questo canale l'obiettivo fondante, principale, è sempre stato quello di indagare tutto lo scibile umano relativo alla pallacanestro, non era giusto rimanere indietro con niente. Quindi, qualsiasi cosa voi seguiate qui nel canale, perché magari c'è quello che segue solo l'NBA, solo la serie A, solo il game, tutto ci sarà. Verrà conveniente, si mette in pausa. Tutto. Se il fisico mi arregge, si tira avanti ogni cosa. 2. Ogni programma, cioè ogni tipologia di video, si ripete una volta ogni sei giorni, quindi non una volta a settimana. Questo vuol dire che qualsiasi cosa seguiate con maggiore interesse, ogni sei giorni ci rie. Quindi capiteranno anche delle situazioni, fu per dire, delle settimane in cui, non lo so, quasi gaming ci sarà il lunedì, perché saltano tutti i giorni, quindi non è detto ci sia sempre di mercoledì, anzi, ci sarà, metti caso, il quasi gaming del lunedì e poi ci risarà sei giorni dopo, cioè la domenica. Vale a dire che in quella settimana ci saranno due episodi di quasi gaming, perché ogni sei giorni appunto si riparte. 3. Ogni live su Twitch sarà, continuerà ad essere ricaricata puntualmente il giorno dopo qui su YouTube. Prima di giorno dopo non la posso ricaricare, perché per le regole di Twitch devono passare almeno 24 ore, ma passate le 24 ore tutte le live verranno ricaricate come sempre qui su YouTube, perché YouTube voglio che resti comunque il cuore pulsante di questo progetto. Tutte le live tranne il gaming che faremo su Twitch, che sto continuando a chiamare gaming in senso così generico e astratto, per un motivo. Ora ci si arriva. 4. I video, quelli che nello schemino che vi ho fatto vedere sopra ho chiamato così genericamente video, in realtà non sono altro che i miei due centesimi, format pluri apprezzato però da parte vostra nella passata stagione, che quest'anno non solo torna ma raddoppia, nel senso che ci sarà una versione di miei due centesimi sul campionato italiano e una versione my two cents sulla NBA e i playoff d'NBA. E l'avevo promesso, quei playoff sarebbero tornati i miei due centesimi e la promessa è stata mantenuta, come tutte le promesse che ho sempre fatto nella storia qui del canale. E quindi il prossimo che mi chiede quando esce i firme di Quasi Gaming, io lo banno, perché lo dico tutti i mercoledì. Esce alla fine della stagione. Ora mi voglio fare una maglietta, qui al posto del logo di Campo Aperto ci scrivo A fine stagione. In modo tale che chiunque lo chiede, tra, a fine stagione. Dice, ma te, tra, fine stagione. 5. Quel weekend lì di mezzo di Eurolega spezza un po' questo tran tran dei pacchetti di sei, di programmazione, così come potrà succedere tranquillamente che in generale questa programmazione verrà un po' rivista e corretta in corso d'opera, perché non tutte le serie sicuramente arriveranno a gara 5 o gara 7. Alcune serie finiranno un po' prima, a volte anche i playoff addirittura potrebbero finire un po' prima, poi ci sono i playoff di serie A che finiscono prima rispetto a quelli di NBA. Insomma, la programmazione può subire delle modifiche, ma voi non vi potete, non vi dovete preoccupare, perché troverete sempre tutti i lunedì, questa è una promessa che vi faccio, tutti i lunedì la programmazione settimanale pubblicata su Instagram, con tanto di orari, perché anche gli orari classici delle live, per esempio, cambieranno, perché ora gli orari sono sempre quelli delle 6 e mezzo, normalmente, tranne il sabato, però da ora in poi ci saranno le partite a volte la sera, e quindi è inutile fare una live durante una partita da vedere, quindi anche gli orari delle live cambieranno, ma troverete tutto su Instagram, quindi fate ogni tanto un giro su Instagram di Campo Aperto è di una noia mortale, non c'è niente al momento, però io lo utilizzo per queste comunicazioni flash, che servono anche un po' per avere un'idea, e faccio un'altra promessa, qualora, qualora un giorno nella vita l'Instagram di Campo Aperto dovesse arrivare a quota 10.000 follower, che non è una cifra a caso, ma sono quelli che ci permettono di sbloccare il tirino su coi dito, lo swipe up, che se non ce lo danno, e che su Instagram diventerà non soltanto il profilo del canale, ma anche il profilo mio, personale, e quindi metterò anche delle cose che mi capitano nella vita, e quindi il tutto potrebbe assumere delle sembianze tragicomiche di dubbio interesse, ma insomma, c'è questa cosa. 6. Quando finiranno i playoff di LBA, che come detto finiranno prima rispetto ai playoff di NBA, gli spazi della LBA non saranno aboliti, soppressi e sterminati, ma rimarranno e si tramuteranno in spazi dedicati a un altro format pluriapprezzato da parte vostra, vale a dire il mercato, che tornerà per il terzo anno consecutivo, e quindi tireremo avanti fino alla fine dei playoff NBA, il prossimo giorno senza video e quindi di pausa per il sottoscritto sarà il 23 di luglio, se tengo botta, cosa non detta e non assicurata, e se ce la fa, dai 23 poi si fa una piccola pausa, di una settimanetta, 23 di luglio sto parlando, però come sempre sapete, perché ormai è un'abitudine, quando il canale si ferma, e non si ferma soltanto per la sopravvivenza dell'essere umano, nello specifico me, ma anche perché ci sono dei cambiamenti, non vi spoilerò altro, ma sapete che quando poi si riaccende la fotocamera è così, così, così. Settimo e ultimo punto, il gaming su Twitch, e ho continuato a chiamare in questo modo così vago, perché dovevo arrivare al settimo punto. Ora, per un periodo io ho pensato che andasse messo in pausa, perché la programmazione del periodo dei playoff è molto fitta, anche l'anno scorso avevamo una programmazione simile, salvo però il settimo giorno del pacchetto ce lo pigliavamo come pausa, il settimo giorno ci si ripostò secondo le scritture. E invece quest'anno non ci ripostiamo e ho deciso di portare avanti comunque il gaming anche su Twitch, per rispetto e per l'impegno che ho preso nei confronti degli abbonati su Twitch, di voi che siete abbonati su Twitch, perché insomma è inutile, già ci torno, gli abbonati su Twitch sono parte fondante del sostentamento al progetto. Apro questa piccola digressione, spesso leggo sul web e vedo delle discussioni dove si dice, eh ma la gente ora si spostano i creator tutti su Twitch perché Twitch paga parecchio. No, un net Twitch che paga parecchio, è YouTube che paga poco, soprattutto in questo periodo. Insomma su questo ci torneremo, perché magari in occasione del terzo compleanno del canale avevo intenzione di fare un video un po' di bilancio generale, perché economicamente YouTube, ma non so, insomma se ne riparlerà, è un macello. Ma a prescindere da questo, a prescindere dalla sostenibilità in sé per sé del progetto e di chi questo lo fa di mestiere come sottoscritto, ho deciso di mantenere l'impegno che ho preso con gli abbonati su Twitch, anche perché il progetto del gaming sul canale su Twitch cambia, non solo rimane, ma si evolve, non lascia, ma anzi raddoppia in un certo senso e stanno per succedere cose. Io non voglio darvi troppe indicazioni, se vi interessa, se siete interessati, l'appuntamento questa settimana è di sabato, poi quella dopo sarà di venerdì e in generale ogni sei giorni, ma questa settimana di sabato è particolarmente importante perché spiegherò tutte le novità che ci sono e vi dico che però in questo video, già ve ne ho dette tante, senza dirvele, diciamo che questo video è costellato di spoiler sulla vera e propria bomba che verrà sganciata sabato sul canale di Twitch. Ci sono più spoiler in questo video che bandwagoner di Westbrook, eh? Basta.